Tizzi facciamo gli auguri al Rimini Calcio. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora andiamo ragazzi. In trasferta arriva l'ottavo capo stagione per i Rimini. Un dato che lascia la mare in bocca alla squadra romagnola che ha al suo attivo solo i tre punti in esterna. I Rimini lancia da più o minuti i suoi ultimi tre acquisti, Nava, Piccione e Palma, Guibert, pronta la scella a Romagna, destinazione Lecce, siede in panchina. Come del resto nella Trestina è nuovo arrivato l'attaccante Costantino. Non convocati per ragioni di mercato, buona avventura ai Badi. La partita sembra mettere sulla retta via fin da subito i romagnoli quando Sabatino scivola in aria, peccando un pallone che è un invito a nozze per Simoncelli che calcia debolmente centralmente con Bocca Nera che fa buona guardia. Dopo una fase di studio, a nono giunge anche il primo tiro per la Trestina con Beccaro che vede la propria concursione deviata in calcio d'angolo. La Trestina punge quattro minuti più tardi. Formiconi mette al centro, Marchetti di testa anticipa l'avversario, fornendo a Maracchi l'involontario assist del sabato sera con un tiro di quest'ultimo che rappresenta un alcol balleno colorato pronto ad entrare nella porta di difesa da Nava. 1-0 è gol che merita sicuramente il replay. A tre totesimo da calcio piazzato, alta sponda in aria con puntuale inserimento di Maracchi, con Formiconi che questa volta segue i compagni, ma non riesce ad approfittarne. Chiusura di tempo con il tentativo dell'exterra Mopetrella, bloccato da Nava. Squadra a riposo, solo 1-0. Nella ripresa i limini si rende vivo solo al 51esimo, tiro al cross di Palma non raccolto dai propri compagni di squadra. Al 54esimo, Marchetti si mette in evidenza risultando provvidenziale nella chiusura su Granocce, mentre tre minuti più tardi, in solito Maracchi, in acrobazia, cerca di ripetere il gesto del primo gol, ma questa volta il tentativo è da dimenticare. Come del resto, il colpo di testa di Piccioni sul versante opposto, ben lontano dalla porta di Boccaniera. Al 62esimo però la Trestina perviene al raddoppio. Il tiro di Granocce viene ribattuto dalla difesa romagnola, divenendo un assist invitante per Petrella, che di testa anticipa Petti, chiudendo i giochi. 2-0 è Trestina che può finalmente festeggiare il raddoppio. Nel giro di tre minuti la Trestina ci prova con due concursi della distanza che non creano problemi a Nava, mentre Palma a tentare la botta da posizione proibitiva, non inquadrando lo specchio della porta. All'ottantesimo arriva questo cross di Guibre, finalmente entrato in campo per la testa di Piccioni, che mette abbondantemente a lato. Al 95esimo invece fa il suo debutto in maglia alla bardata Costantino, che prende il posto di Granocce. Chiude in attacco proprio la Trestina e tiro di Dalgo e deviato in corner. Termina qui una gara che mette i rimini di fronte a una triste realtà. Non è la Trieste in metà di punti, ma se non si vince laddove tutto sembra impossibile, vedersi Fano e ci si aggrappa sempre alla forza dell'avversario, la strada della salvezza diventa davvero lunga. Osa chi osa, a Cori e compagni sono invitati a farlo. Anche perché la tifoseria, come si vedrà da questo finale di dopogara, inizia davvero a perdere la pazienza. Anche perché la tifoseria, come si vince laddove tutto sembra a perdere la pazienza. Anche perché la tifoseria, come siressa dietro a perdere la pazienza. Anche perché la tifosi risp tested, onu sapp jour marriageacheri, l'avviare della ragazza diventa avg centes untuk attraversario, Voto 7,5! Voto 7,5! Voto 7,5! Voto 7,5! Non arrivano tiri e quando ci sono regali degli avversari i palloni di gettarlo in fondo a sacco proprio nessuno vuol saperne di farlo. Per salvarsi specie in esterna servono i gol. Lo ricordiamo.